Scusa Scusa Una persona che è andata macerata dopo che Luca Traini ha sparato a sei persone di colore è andata macerata facendo la sua bella passerella elettorale incurante di quello che è successo anzi parlando di Traini come se fosse un italiano esasperato siamo qui per dire che chi sta parlando adesso dentro quella sala pubblica è una persona che non è benvenuta ma il fascismo è nostro e non lo deniamo ma il fascismo è nostro e non lo deniamo grazie 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 grazie